Nella gran parte delle ASL della campagna, i responsabili delle ASL hanno deciso di individuare all'interno di ciascuna ASL degli ospedali appositamente dedicati ai pazienti contagiati. Nell'ASN Napoli Due Nord, a cui fa capo l'RSA di Villa Mercede, non si è ritenuto di individuare degli ospedali Covid, ma di individuare all'interno di ospedali promiscui, misti, alcuni reparti dedicati ai pazienti Covid. Situazioni di contagio si sono determinate nell'ospedale di Pozzuoli, che fa capo alla stessa ASL. Questi hanno deciso di far tornare una paziente nella RSA, non facendo i tamponi, secondo anche quelle che sono le prescrizioni ministeriali, ma un test rapido. Una stessa situazione si è verificata nell'ospedale di Pozzuoli e una persona ha infettato tutto l'ospedale, o comunque si è determinato anche lì un focolaio di contagio. Nell'ASN Napoli Due Nord, dicevo, non ci sono ospedali dedicati, ci sono situazioni promiscue e la cosa assurda che non si è capita è che l'ASN Napoli Due Nord, anche nel caso dell'RSA di Serrara Fontana, ha ritenuto che gli ospiti contagiati, quindi gli anziani contagiati, dovessero essere curati nella stessa struttura. Non è che una volta che si era fatta la frittata e queste povere persone erano state contagiate, l'ASN ha ritenuto di spostarle, di curarle in luoghi donne e le ha lasciate all'interno della struttura, facendoli assistere da personale, che assisteva anche quei pazienti non contagiati. Peraltro, per quanto ci risulta, questo personale non aveva neanche adeguati dispositivi, aveva semplicemente delle mascherine chirurgiche e il risultato è che si sono infettati anche tutti gli operatori, o gran parte degli operatori, che lavorano presso la struttura. A un certo punto l'ASN si è resa conto che la situazione stava diventando, stava sfuggendo di mano e che cosa ha fatto? Ha sostituito il personale della cooperativa che lavora presso la struttura con proprio personale, quindi ha deciso di prendersi in carico direttamente gli ospiti della struttura. Ma non è che li ha presi e li ha portati in ospedale, è l'ospedale che è andato dentro la struttura, senza trasferire gli ammalati, senza camere di isolamento, senza percorsi differenziati e una logistica adeguata allo scopo. In pratica sono state disattese le disposizioni ministeriali dell'Istituto Superiore di Sanità che impongono di tamponare tutti i soggetti che accedono agli ospedali, anche agli asintomatici che siano venuti in contatto con casi positivi, non sono state adeguatamente protetti gli operatori di assistenza con l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione e anche i protocolli di sicurezza adeguati. Si è creato questo mega focolaio che chiaramente adesso preoccupa tutta l'isola perché poi gli anziani hanno contagiato, il personale ha contagiato le proprie famiglie. Allora noi abbiamo presentato un'interrogazione perché la situazione diventa più preoccupante ancora adesso, adesso che comincia la fase 2, adesso che c'è un allentamento delle misure restrittive. Se non si fanno delle azioni puntuali di prevenzione epidemiologica il contagio rischia di diffondersi, bisogna tracciare e isolare tutti coloro che sono venuti a contatto con i contagiati e farlo non con quei test rapidi che danno falsi positivi e falsi negativi, creando il rischio che anzi il contagio si possa moltiplicare, ma dei metodi, appunto delle metodiche diagnostiche adeguate.